chi di voi usava la... come sto parlando? chi di voi usava la meter? avete mai usato la meter? la meter è questa rapone che è letteralmente una roba dei green ear perché vedete che è rozza vedete che è... sembra inefficace, è proprio dei green ear è l'arma degli eviscerator, degli green ear tra l'altro, quindi è un'arma che dovete anche vedere in giro abbastanza facilmente ed è un requisito per fare la pantera, inutile dirvi che io l'ho dovuta ricostruire quando ho saputo che hanno fatto la versione incarnon perché l'avevo usata per fare la pantera e quindi della meter me ne fregava veramente veramente poco grave errore, grave errore perché fa principalmente taglio, è un'arma che fa principalmente taglio ha 1,5 di riva indisposition che per chi non lo sapesse è il massimo e ha due modalità di sparo, uno che spammi e attaccano e spara oppure la carica, è una carica praticamente, ma tu puoi rilasciarlo prima oppure puoi spararlo al massimo, no? ecco, i colpi caricati hanno un innato 2,5 di attraversamento che non è, non è male e inoltre hanno una, ha la meter, una mod unica chiamata Neutralized Justice che praticamente ha il 90% di chance di distruggere immediatamente il campo di un nullifier quindi è l'arma anti nullifier per eccellenza me ne fregava qualcosa? no, lo uso per fare la pantera e amen questi sono i bonus che ho scelto aumenta di 77 il dan con un'abilità canalizzata, la vede, cadenza di tiro l'altra era brutta lo sparo multiple consola munizioni direttamente a capacità e aumenta il danno del 20% è tanta roba, ma io resto sempre senza munizioni sempre, quindi qualunque cosa, sempre l'altra è meglio anche se c'è Plainful Mayhem, è il nome dell'abilità e poi ho scelto velocità proiettile comunque è un disco che vola, quindi preferivo velocità proiettile ma c'è anche velocità di ricarica, caricatore vuoto questo non è malaccio comunque e la capienza munizione di 160 infine, ho scelto probabilità di critico aumentata del 22% c'è anche tenere avuto il colpo caricato per un secondo per aumentare l'aria ad effetto o aumenta critico del 15% e l'effetto del 12 e secondo che comunque l'effetto era già altino cioè 20% non è male se poi metti le mod che aumentano l'effetto va bene ma il critico del 5 faceva schifo e quindi ho detto aumentiamo unicamente il critico andiamo adesso al simulacro e vediamo come si comporta l'ultimo video sulla Anku è stato molto breve quando poi l'ho editato era veramente pochissimo non fa niente tanto comunque non guadagno niente dei video sulle build perché sono comunque brevi vengono visti da poche persone quindi fa niente però però oggi parliamo del meter anche esso rosa perché è con Excalibur li sto registrando uno in seguito all'altro essenzialmente e oggi parliamo del meter arma che vi dicevo durante la intro un pochino bistrata da me perché serviva a fare la Pantera e quindi chi la usava mai questa arma come vi dicevo ha due divi di sparo cioè il click e basta che lancia questo disco che rimbalza rimbalza un paio di volte d'accordo oppure potete caricare il colpo rilasciarlo per far partire il disco alla massima potenza adesso vi faccio vedere un po' di indicatori del danno c'è il colpo rapido che ha tot percentuale d'effetto di motivatore critico e di probabilità di critico e dei danni e poi c'è il colpo caricato al massimo che ha tutto maggiorato sia l'effetto l'effetto è imbarazzante arriva al 190% il moltiplicatore resta uguale mentre la propria di rigo aumenta anche essa i danni sono quelli fa sempre principalmente taglio poi perforazione e impatto allo stesso modo e io poi gli ho messo nella build il virale ok? abbiamo poi la forma incarnon che aumenta la capenza di tiro che diventa un altro tipo di giro di arma ok? mettiamola cioè diventa sempre lancia sempre i dischi d'accordo? nella forma incarnon ma li lancia a ripetizione non c'è più la carica va bene? abbiamo quindi più cadenza di tiro che diventa una sorta di fucile normale ok? e abbiamo 212% d'effetto moltiplicatori di rigo che fa imbarazzo e una propria di rigo più che garantita in questo in questo modo faremo meno danni totali rispetto al colpo caricato ma il colpo caricato va appunto caricato e sparato mentre questo si spara e basta e avrà un leggero attacco radiale che non è così leggero perché comunque ha 3 di portata non è pochissimo 3 di portata che però andrà a infligire principalmente fuoco più il nostro effetto che in questo caso è il virale c'è un hammer shot perché nella forma incarnon il moltiplicatori grigo raggiunge il 9.2 e c'è ovviamente tutto il pacchetto delle delle nostre mod per andare a fare più danno possibile c'è anche una vigilante su please per incrementare la probabilità di fare vi faccio vedere come si comporta contro dei nemici livello 190 95 mi fermo qui per sparare mi metto qua sopra facciamo un paio di headshot un paio di colpi prima normali così sparato vedete boom questo danno che fa il danno lo fa principalmente il taglio che devono dare 3 headshot abbiamo già caricato al massimo alla nostra forma incarnon e adesso vi faccio vedere un paio di colpi caricati magari sul nemico full vita questa è la differenza questa è la differenza dell'aria non ci sono ancora non c'è ancora niente di attivo non ci sono ancora galvanized che tengono mettiamola così ma praticamente il colpo caricato è una bomba ok e l'attraversamento vi ricordo che spavano normalmente non avete attraversamento ma nella nella forma caricata avete 2,5 di attraversamento non è un attraversamento standard ma in realtà si colpisce io ero convinto che rimbalzasse fra nemici invece no attraversa e basta non capisco a volte attraversa a volte rimbalza non lo so però dice che in teoria con la forma caricata al massimo dovrebbe avere attraversamento forse perché colpisce più nemici io ero convinto di sì però prima le aveva attraversati boh alzeremo un attimino i nemici perché sono tutti quanti morti cioè non va bene e io ho c'è la forma incarnon del meter che ha 20 colpi nel caricatore che comunque non sono pochi ma non sono manco tantissimi e spara così bom 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 sparando 12 proiettili i nemici ci sono stati quasi decimati quasi nella forma incarnon credo lo avrete notato adesso vi faccio vedere un pochino meglio nella forma incarnon la riattiviamo subitissimo 1 2 e 3 i dischi rimbalzano tra i nemici bene boom ecco l'è molto buon colpo quindi ci sarà sia l'esplosione sia questo disco che parte dal nemico vedete quella cina blu boom boom e colpisce gente a caso nell'area effetto dell'arma guardate là boom 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 e fa una quantità di taglio di danno folle follia follia inoltre vi ricordo che quest'arma c'ha 1 e 5 il massimo quindi 5 guallini su 5 di riven disposition ma che volete di più con una riven che abbia un po' di sparo multilo magari danno critico chance arrivate tranquillamente a fare unicamente critici rossi con oltre il 10% di danno critico ma che cosa volete di più è meravigliosa è stupenda ancora non è l'arma dei miei sogni perché insomma è il meter però però non solo volete farla magari un pochino più da da utility vi ricordo che c'è quella mod così tanto poi i dischi vanno in giro e fanno danno tutti quanti c'è anche quella mod vi ricordo che non so se ho comprato la justice qualcosa eccola qua neutralized justice quindi volendo togliendo magari l'hammer shot non so farebbe un po' di non critico ma va bene ok però ogni lama del meter ha la possibilità di distruggere immediatamente la ball nullifier questo con un'arma che fa comunque quella quantità di danni bello bello diventa anche da utility tutti guarda il carico il danno ecco qua se non sapete manco voi chi colpirà il disco poi perché comunque vola questo è bellissimo è bellissimo vabbè spero vi sia piaciuto questo video fatemi sapere in breve cosa ne pensate del meter se l'amate se non l'amate perché non lo amate soprattutto io sono Eterion e spero di rivedervi alla prossima ciao da Laiu ciao